iniziamo questo viaggio all'interno della sapienza amici interrogazione io non trovo più gli occhiali raga io non trovo più gli occhiali questa cosa mi pento e mi dolgo interrogazione chi mi sa dire del cdi's aspe io vi leggo direttamente io voglio farvi lo spiegone direttamente da su wikipedia perché vabbè che voi non leggerete niente sicuramente perché non si legge un cacchio da qua sopra però ve lo leggo io non vi preoccupate che ci sto a fare però dove mi metto o no il quaderno nessuno ha preso appunti o sapevo a quando la cover della canzone di pago mai you cani passione cdi no io vi voglio leggere più che altro perché ve l'ho detto sappiate che io di questa console non so niente quindi la scopriamo insieme piano piano ok quindi che giochi hai al momento per cdi i ve lo posso dire no non ve lo dico l'orno sapete per quale motivo perché c'è una roba che vorrei fosse sorpreso anzi dai il resto ve lo dico aspetta dovrei averli da qualche parte tranne questa cosa qui il resto ve lo dico allora abbiamo barn cycle che quindi sicuramente proveremo abbiamo il gioco di zelda che quindi sicuramente proveremo abbiamo i due come si chiamano abbiamo questi i dragon slayer 1 e 2 che posso andare in bagno no che non si va in bagno abbiamo i dragon slayer che però non proveremo perché quello facciamo proprio che mi metto a fare i dragon slayer ma manco mi sbaglia abbiamo il cartoon jukebox del cdi abbiamo the apprentice per cdi e anche io del mario no chaos control abbiamo pavarotti e sì ragazzi abbiamo anche un cd dedicato a pavarotti sul cdi abbiamo panic e abbiamo golf di bello bello si chiama solo golf o qualcosa non mi ricordo como como pavarotti pavarotti abbiamo pavarotti ragazzi abbiamo un cd su pavarotti quindi non vi preoccupate abbiamo di tutto e di più per questa splendida console ma oggi in particolare non vi preoccupate perché vi porterò a conoscere soltanto le gioie dell'amore perché noi non faremo soltanto l'infarinatura generale con il cdi ma scopriremo anche le gioie del zezzo ovvero questo bellissimo cd guida che tramite graziose immagini che saranno ovviamente twitch fatemi parlare con twitch saranno censurate quindi sarà tutto il gioco censurato tramite queste graziose immagini voi potrete capire come leccare giustamente l'interno la cavità interna dell'orecchio del vostro partner affinché si raggiunga il climax detta bene sono stata abbastanza curata sono stata abbastanza curata andiamo avanti voglio leggere giusto l'introduzione del perché tanto wikipedia ha scritto tre parole giustamente che si può scrivere per il cdi conosciuto anche come compact disc interactive o philips cdi è un lettore multimediale la cosa bella è che l'hanno descritto come lettore multimediale mi sento scammata allora sofficino sappiate facciamo una cosa ve lo dico allora vi dico soltanto che se volete la visione completa di joy of del joy della marmellata chiamiamola marmellata the joy of marmellata posso mettere tutte le immagini in raccoglitori multimediali ritrovabili recepibili altrove ok ma non qui non qui fermi e per chi è solo e non in compagnia ti insegnano anche a leccarti l'orecchio da solo giuro va bene se è censurato mi facciamo applicare la lezione va spiego io vabbè state assenti a me sono io sessuologa sessua vendita ma no che vendita nessuna vendita raga tutto a gratis per voi vabbè ha però istruttivo è vero detto è una console per videogiochi sviluppata e commercializzata dalla philips tra il 1991 e il 1998 e dura da un sacco di tempo il nome si riferisce anche allo standard di memorizzazione utilizzato dai cd riprodotti dal lettore lo standard viene specificato nel green book co sviluppato da sony e philips nel 1986 grazie massimo aiuto potrebbe essere censurato bigliade andiamo avanti da tempo ci si aspettava che il cd diventasse prima o poi il supporto di riferimento in campo videoludico infatti così è stato poi con la play steschio ma non con questa console e con l'introduzione del cdi sembrava che ciò si stesse verificando tuttavia la vera affermazione del cd arrivò soltanto a metà anni 90 con la playstation mentre il cdi ebbe una storia travagliata e fu uno dei peggiori fallimenti hardware dell'industria videoludica sentite sentite l'amarezza guardate quanto è bello il pacchetto guardate che bel pacchetto la sentite l'amarezza mi piace tantissimo una breve storia che fai glielo lasci e dagli senza il cdi e la nintendo che si tirò indietro non avremmo mai avuto la playstation è vero è vero perché poi infatti qui lo dice in quanto colosso dell'audio video che aveva anche avuto un ruolo fondamentale nell'invenzione del compact disc la philips si trovava in posizione favorevole per tentare l'impegnativa introduzione di massa di un sistema multimediale di questo tipo sebbene l'azienda non avesse una presenza radicata nel settore dei videogiochi in soldoni la philips sapeva far tcd ma non ti sapeva fa i videogiochi e infatti noi lo scopriremo non vi preoccupate perché lo scopriremo benissimo che non li sapeva fa infatti philips me lo ricordo solo per gli elettrodomestici ma la philips al tempo era effettivamente quella che su cui potevi puntare per creare un cd qualcosa su un formato cd il problema è che loro non avevano nessuno che savesse fare videogiochi e quindi hanno detto vabbò abbozziamo non vi preoccupate tanto se la comprano lo stesso si è giocata decenni di reputazione ragazzi non ne avete idea mamma con calma dai fermi fermi sembra di raggiungere l'apice di tutto ciò che qui è stato fatto in cinque anni in un mese è vero è guardate che è tutto qui è tutto condensato andando avanti il primo lettore cdi venne presentato da philips nel 91 è messo in vendita negli stati uniti il 3 dicembre al prezzo di 400 cocozze raga 400 cocozze costava come si fa l'inflazione scusatemi posso capire tipo 400 cocozze del 91 quanto sarebbero adesso turnicate più di una playstation 5 cioè secondo me più ciao kim è più di una playstation 5 secondo me i dischi per le vereterie erano philips praticamente alla mia stessa età sì due ps5 un sacco di soldi quanti sono 400 dollari del 91 che poi non erano 400 dollari ma era 4 e 99 se non sbaglio eh cucacchi che erano 400 dollari per me come due iphone bellotta ma tu da dove si fonti scusami inflation stall facciamo 400 dell'anno guarda bellotta come sta tutti i fatti guarda guarda come ti infila tutti i fatti nel 2021 sono 878 dollari raga costava l'equivalente di 878 dollari minchia siamo pazzi siamo pazzi sono 800 quasi due ps5 costava un voto raga costava veramente un voto un rene è assurdo dio mio vabbè insomma dovevi sbursa praticamente tutti i reni e soprattutto era una sciofega andiamo avanti il lettore era in grado di leggere i dischi in formato cdi e cdi audio cd g cd karaoke e video cd sebbene la lettura di questo standard richiedesse l'acquisto di una scheda decodifica un gag opzionale quindi necessaria anche per determinati videogiochi quindi non solo ti compravi la console per 800 cocotte ma in più dovevi comprarti altri fatti apposta per unirli alla console che quella già erano bello paccottone poi la dovevi comprare altri cagazzieri per unire la console che comunque costavano un bel po' di soldi un bel po' di cocotte tutto questo per poter giocare o vedere qualcosa perché se no la scheda tu ce l'hai già messa sì noi ci abbiamo già tutti fatti apposta perché bellotta ha inserito un sacco di fatti qui dentro bellotta mi ha dato un cdi che è grosso veramente così questa plastic love strumentale su youtube si combo la playlist che sto utilizzando in questo momento è questa ton ve la fico qua ve la fico qua questa è la playlist che sto utilizzando in questo momento ma andando avanti pur non essendo la prima console ad andare online perché noi negli anni 90 eravamo già nel futuro eravamo già nell'onlines il lettore fu innovativo anche nel proporre il servizio cd online lanciato nel regno neto nell'ottobre del 95 che forniva un vero e proprio sbrowsers per internet richiedendo però un apposito accessorio la scheda dvc e un abbonamento mensile perché non ci facciamo mancare nulla ma chi se la poteva permette ma è normale che avrebbero fallì ma non ci hanno pensato ma non se la poteva permettere nessuno e ma è normale che la signora voleva far giocare il bambino su sul computer ok cioè come il laser disc l'antenatore del dvd che costava tre o quattro reni ma scusami lanciato da dove ma spero dal quarto piano la console venne prodotta in svariati aggiornamenti da un consorzio di produzzori di produttori davvero impressionanti sì perché poi l'hanno prodotta in 500.000 anche la sony ha contribuito che ne produsse una versione portatile detta intelligent disc man per un sacco di gente che non stiamo nemmeno a fa nomi tuttavia fece fatica a raggiungere una certa diffusione nel mercato e a tutt'oggi viene considerato tra i più grandi flop del settore videoludico chissà come mai la causa principale fin dai primi tempi può essere vista proprio nella scarsità di software videoludico pubblicato per il sistema facciamo una console per videogiochi però facciamola senza videogiochi genio bravi grandi sto pensando alla signora quando ha dovuto pagare quando le bastava aggiustare il pc con 15 dollari ragazzi ma sul serio veramente cioè è normale che la signora voleva aggiustarsi il computer di impressionante c'erano il consorzio e la scarsa qualità è vero ma andando avanti fermi quindi la scarsità di software videoludico sebbene fosse supportato da una grande azienda quale la philips i team di sviluppo dei videogiochi semplicemente non avevano una vera e propria formazione da game designer e questo l'abbiamo detto lo scarso successo del dispositivo causò danni economici e di immagini alla philips che fece una figura di melma influenzando negativamente anche la collaborazione con la nintendo per il mai realizzato snes cd perché c'era il diciamo lo step successivo di quello che sarebbe stato il super nintendo che era questa console con bravo caccio ho portato una personcina molto carina a mio amico e si chiama difa ciao difa benvenuta buon pomeriggio aspetta non ho visto tra poco ti ascolterò mentre giocherò sul pc ti avrò come sottofondo gioca sul pc fa bene alla salmina il giacuarli aveva i giochi almeno quello il video arriva prima di telefono del televisore è strano però difa non so per quale motivo questa roba prova a cambiare provate a cambiare qualità vedete effettivamente se funziona così quindi la nintendo ha visto il flop e ha detto ma ramai ma lascia sta ma non però di fatto l'accordo dal fallito accordo con la nintendo la philips guadagnò comunque i diritti a realizzare per cdi alcuni videogiochi della serie di enorme successo come mario e zelda madonna mia poverini io immagino che la nintendo veramente sia ancora in causa con la philips ma la preziosa occasione non fu ben sfruttata nel 93 e nel 94 uscirono hotel mario tre spin off di zelda ma sviluppati in fretta da squadre occidentali con risultati diluenti va bene il cdi ha impedito a final fantasy 7 di uscire su nintendo è vero tutto per giocare a winning 11 hotel mario godi ma di che parliamo del mario raga ma i vecchi spin off di zelda vogliamo parlarne dal 1994 al 98 philips continuò la produzione di cdi tramite dei cataloghi indirizzati direttamente verso i privati cioè praticamente mandavano direttamente a pubblicità a casa che cos'era con la serie 200 400 munite di un joypad più comodo 300 del cdi portatili con schermo lcd cioè c'avevano quello schermino tipo la bofrost esatto direttamente a casa tua tipo i prodotti cosme come si chiama quella marca che ti vende i prodotti per casa la stardust la starom la homestard la mastard si chiamava quella insomma questi ultimi dei lettori con disk drive professionali per programmatori madonna mia pure la roba per per la tupperware vai la avon la avon è vero pure la roba per programmatori alcuni modelli erano distribuiti da gold star insomma la roba però poi alla fine è bello e buono ha fallito anzi senza bello e buono quindi sui prezzi delle console del tempo se non altro senza prendere in considerazione che a parità di valore della moneta mc non so che cosa sia ma intanto dove posso staccare questa roba è riuscito ad abbassare il prezzo della vendita al suo primo panico a mcdonald che c'è non ho capito però mandavano il tizio letteralmente a casa e lui scroccava pure esattamente quindi la pubblicità effettivamente era realistica perché arrivava il tizio a casa tua che tu dicevi ma io ho un problema con il non lo so con il forno signora per risolvere i suoi problemi di forno ecco questo bellissimo cdi eye e quindi amici perché non infilarci nel mondo del cdi eye perché non guardare quali prelibatezze ha da offrire la nostra bellissima console io spero che funzioni tutto madonna amici guardatela che bellezza io già sento del profumo fermi mi potete spostare in retro per favore intanto io voglio provare a vedere eccala amici ma guardate là ma dico io ma con una una cosa introduttiva così ma fra l'altro questo funziona? sì dovrebbe funzionare io sto usando il telecomandino questo qua tipo del del come si chiama della televisione immagino che ha speso tutti gli organi per comprarselo è vero immagino chi ha speso che cioè chi ha puntato su questa console ci faccio sentire il profumo dei contatti vi faccio sentire tutto quello che volete proviamo a playare il cd introduttivo vediamo prima di tutto se si sente perché è tutto a caso eh sappiatelo speriamo si senta mamma dai parti io so ce la puoi fare cdi hai? no cdi hai? ti prego sta caricando sta caricando tutto a posto tutto a posto tutto a posto ce la possiamo fare sento della musica madonna mia ma guarda là ma con questa grafichina ma non ti senti già attratto? ma non vi sentite già attratto? attratti amici? allora il manuale d'uso io lo prenderei in tedesco ma facciamo dai il futuro il futuro io lo prenderei in tedesco però facciamo in italiano perché magari molti di voi non sanno il tedesco va bene? o il francese 400 passa dollari e non sentirli ma va là va là ti sento bene e non attrava per aver acquistato questo lettore cdi i470 grazie e benvenuti nell'era dell'interattività ma domici benvenuti è un modello compatto ed elegante utilizzare i cdi audio i foto cdi con i vostri scatti preferiti i cdi di grafica e i cdi i non è più un sogno irrealizzabile eh beh allora di che parliamo? però mamma? mamma? no cdi ai? vedere i dischi digital video e i video cd ok è vivo è vivo è vivo ok? è il doppiatore di ultimo minuto vedremo un poco alla volta tutte le possibilità che il vostro lettore vi offre il doppiatore di esplorando il corpo umano è vero premendo un pulsante del telecomando premiamolo se vi servono maggiori informazioni premete l'icona aiuto in basso aiuto prima di procedere potete fare un po' di pratica con il vostro telecomando selezionate gioco per esercitarvi oppure menu principale per accedere direttamente all'argomento centrale di questo disco ma la musica da altri templi raga ma la sentite l'ansia della musichina l'ansia della musichetta ciao Turi che torna nel fantastico mondo dei pepsomani per due mesi grazie mille la musica fa molto chi l'ha visto raga nel cd introduttivo ti davano anche un grandioso gioco che ti faceva capire tutte le grandi potenzialità del cdi ragazzi secondo voi il gioco in questione vedete già un piccolo sfondino del nostro gioco in questione la musica è rilassante mi sembra di essere in un programma rai ma raga ma quanto è vero sembrava veramente che stesse facendo lo spiegone di super quark tipo io per questo volevo farvi vedere il cd introduttivo perché è bellissimo mamma mia scomponire la velocità del download aspetta altre appassionate di programmazione ci sono? non ho capito ma noi stiamo parlando di un'altra cosa credo convengo utilizzare uno smartphone per il download aiuto I'm behind you in realtà il gioco era un gioco di presentazione introduttivo deve installare le patch per questo sicuramente sicuramente dovremmo installare le patch proviamolo con questo gioco vi esercitare che madonna quanto alto dovrete cercare di colpire più stelle possibile cliccandovi sopra quando la luna scompare termina il tempo a vostra disposizione amici il grande intrattenimento non ho capito bene cosa in te nemmeno io ho capito bene cosa in te amici l'intrattenimento per tutta la famiglia tocca le stelle prima che scada la luna va là guarda che effetti speciali guarda vi sentite intrattenuti potrei passare ore a giocare a tocca la stella sentite il pathos della musica il tempo che scade avete perso ormai lo scarico col modem aspetta aiuto aiuto tocco è difficilissimo ragà perché mi devo muovere con questo cioè mi devo muovere con questo faccio tocco va là che bello potrei passare tante ore in compagnia animazioni da powerpoint anni 90 potrei passare tante ore in compagnia della mia famiglia a giocare a tocca la stella su cdi godi 2022 ragà non era capito non era capito guardate lì che skill guarda poi a un certo punto cominci a farci il ditino cominci a farci la manina anche fuori dal seminato va bene lo stesso anche se tocco fuori che gioco videoludico amici guardate che potenza che amabilità hai appena battuto il record mondiale ma basta basta parlare di stelle il tempo è eccellente grazie grazie mille cliccate start per incominciare a giocare oppure menu principale per andare al menu principale va bene posso tornare a casa mamma voglio tornare a casa come tu no inizio che significa ah menu principale ok quattro stelle amici quattro stelle su tante da qui potete raggiungere il capitolo sugli accessori grazie Gaia non ti preoccupare sul cdi 470 qualcosa di buono l'hanno fatto io voglio consultare le informazioni perché amici cliccate sull'argomento che vi interessa io voglio voglio scoprire quali sono muovete il cursore sul tasto aiuto in basso sullo schermo e premete un pulsante del vostro telecomando Gennaro però io vorrei toccare scusami ciao Taylor è come il tutorial di fare il class se non hai sette stelle non sai nessuno Gennaro posso? ma tocco? ah ok aspetta ma scusami ma è tutto sformato ecco allora non sono io che vedevo male non sono io che vedevo male è tutto sformato è sformaggino quasi perché si vede tutto sformato? aspetta ma che è? c'è qualcosa che non quadra come mai? aspettate un attimo c'è qualcosa che non quadra no è proprio così ma veramente è proprio così? ma seriamente è proprio così? cioè non si vede il sotto ma non ci credo che non si vede il sotto vabbè allora noi proviamo provo a chiamare Sid ha cambiato la risoluzione del gato ha cambiato la risoluzione e come cacchio è? no dai io voglio vederlo full sprints no ti prego ma io voglio vederlo full sprints no 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 aspetta rifacciamo e no io devo capire le cose per bene io il filmato con tutti i giochi lo voglio vedere bene mica lo voglio vedere male qua ci deve essere la qualità si diai e dai ma 400 dollari ti ho pagato e non vuoi funzionare ma domo devo sentirmi tutta l'introduzione del signore che mi parla no vi prego mamma e non è la stessa cosa no io devo capire tutto qua devo vedere per bene devo assaporare l'ecletticità si diai ai ai che dolore no basta smettila spengi il signore mi lascerà? ok gioco e menu principale va bene ci siamo benvenuti nel menu no basta stai zitto cliccate sull'argomento no stai zitto tocco ok ma allora si amici possiamo scegliere tra digital video e titoli cdi che cosa vogliamo vedere vediamo i titoli vediamo che cosa ci propone questa affascinante console perché questo doveva essere il video esplicativo che poteva farti capire che cosa giocare è tempo libero e divertimento cdi è gioco e apprendimento marò il cdi vi informa sull'arte classica o vi fa giocare ai videogiochi pure vi piacerebbe passare la serata rispondendo a dei quiz si se preferite vedendo un buon film romantico quattro matrimoni è un funerale è un film romante scusa potrete avere tutto questo ma wow sapete che i primi titoli cdi erano soprattutto educativi per ciò che riguarda il settore educativo sia per adulti che per i bambini il cdi ha alcune carte vincenti i vostri bambini impareranno la matematica a scrivere a disegnare e perfino a suonare divertendosi potranno guardare le favole e i futuri managers impareranno a gestire una fabbrica di pastelli no vabbè voglio diventare futuro manager e i loro genitori per loro ci sono corsi di lingua enciclopedie interattive corsi di fotografia e altro ancora ma è The Joy of Sex se lo sono scordati perché era il titolo di buon film vi piace la suspense e il brivido? sì ti prego la fantastica collezione di giochi CDI accontenterà entrambi grandi e piccoli ciao Saffo preferite vagabondare in un mondo magico o avventurarvi in uno scenario fantascientifico guidato da computer e reti telematiche? ve la sentireste di combattere nel vecchio faro est o di risolvere tutti i problemi economici e politici del mondo come comandante di un'astronave il CDI vi offre possibilità inaspettante e pure i baci ti offre ragazzi un sacco di cose c'è una larga scelta di film potrete vederli sul CDI con la cartuccia digital video opzionale tutti i generi sono presenti in questa collezione e nuovi titoli vengono pubblicati a ritmo incalzante ma pensa un po' offrirvi una panoramica più dettagliata di tutti i titoli che potrete utilizzare con il vostro CDI 470 è un'impresa ardua contattate il rivenditore più vicino sarà lieto di aiutarvi a costruire la vostra collezione di titoli CDI voglio contattarlo il rivenditore come faccio a contattare il rivenditore più vicino voglio fare comprare tutti i titoli CDI secondo voi lo trovo ancora un rivenditore di CDI E allora ma la Blesteschio ti dava il video introduttivo con tutti i titoli i titoli per grandi e per piccini chi è che vi faceva diventare manager di una fabbrica di pastelli nessuno solo il CDI guarda lì tutti quanti allora devi mandare una raccomandata mo la mando uno che non si è in pensione ci dava il cd demo ma sì ho capito ma quello era per poveracci questo ma le altre console quali non esistono altre esiste soltanto il nostro CDI e c'è di più vediamo il digital video altri detti moschi maronna maronna aiuto il mio cervello che dolore incredibile come poveracci poveracci tutto quello che non era CDI era poveraccio che introduzione ma che succede mamma che paura ma questo è ah questo è il trailer dei film interattivi era perutte c'era Al Kogan chi ha sparato a Johnny Rock raga ma la percepite l'azione guarda là che azione imbarazzante ma anche cartoni questo era bellissimo comunque è Yoshi sotto ma Yoshi mamma che video introduttivo è Diddy Kong potrebbe essere anche Diddy Kong Plumber The Wild Ties secondo me è uscito l'orna madonna che hit eh provati pronto percepisco più il cringe ma guarda lì che bellezza che grafica che qualità guarda lì persone che alzano le gambe dove le vedevi nella playstation le persone che alzavano le gambe dove posso prenderla per 500 pure della musica amici pure la musica le dubas all'improvviso gli anni 90 sentite c'era anche il reddressing la signora vedi lì che si bacia i quadri uno strip poker sicuramente c'era c'era sicuramente dello strip poker altro che PS5 questa era soltanto magia c'è anche Paco negli anni 90 la vedo difficile ma perché mettono sempre a questo col mal di testa comunque sponsorizzato non era il massimo mamma mia mamma mia ho già l'ansia di giocarmi tutto ma che dico tutto anche di più soltanto guardando questi brevi video introduttivi amici poi in realtà c'è un sacco di roba aggiuntiva mamma posso mamma mamma voglio uscire come torno all'uscita menu principale madonna mia quanto è complicato devo ammetterlo sta cominciando ad avere un suo perché io vi ho detto volete vedere quanto è bello il mio ma vi faccio vedere il mio modello fra l'altro cdi cdi video cd foto cd cd di grafica cd audio tutto potete usarli tutti con il vostro nuovo lettore cdi 470 tutto ha tutte le sofisticate funzioni che vi potete aspettare da un cdi tutto proprio come lettore di cdi audio guarda là vi offre tutte le funzioni dei più completi lettori audio ma tu ce l'hai a casa non ce l'hai compatto ed elegante può essere collocato compatto ed elegante per ottimizzare la resa del cdi 470 connettetelo alla tv e al vostro stereo in questo modo non avrete solo una perfetta qualità video ma anche un'ottima qualità audio e se avete un codificatore Dolby Surround bene allora potrete vedere i film con l'audio in Dolby Surround sempre che abbiate la cartuccia digital video sarà un'esperienza fantastica fantastico amici connettete tutto spendete i vostri mille dollari il cdi 470 è provvisto di un telecomando compatto e senza filo utilizzabile sia con la mano sinistra che con la destra con esso potrete controllare non solo le funzioni del cdi ma anche le funzioni del cdi audio volete maggiori informazioni sul cdi 470 o sul suo telecomando posso fare la signorina che sponsorizza il cdi per avere maggiori informazioni cliccate sul lettore cdi o sul telecomando ci posso imponare la musica al 7 certo ciao mates buon pomeriggio io voglio sapere sul telecomando fammi sapere tutto voglio sapere come posso utilizzarlo il vostro telecomando può fare più di quello che credete l'esterno appare come un normale telecomando per cdi che può essere utilizzato sia con la mano destra che con la sinistra ma se lo aprite vi rivelerà molte altre possibilità c'ho delle possibilità raga lasciamo stare muovete il cursore su ciò che volete conoscere meglio per aprire o chiudere il telecomando cliccate sulla freccia a destra volete esercitarli nell'uso del telecomando cliccate su gioco no basta questo gioco ma sto gioco se lo spammavano da tutte dovevano essere fierissimi del gioco tocca da stella perché lo hanno messo ovunque ha le possibilità ma ha le qualità vediamo c'è il 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 transmettitore telecomando ad infrarossi poi c'è il pulsante c'è il thumb pad e i pulsanti per uso con la mano sinistra odè ah ecco perché ce ne sono due perché questi sono entrambi ok cioè questi sono entrambi la stessa cosa soltanto che se clicchi con la mano sinistra premi uno se clicchi con la mano destra porca se clicchi con la mano destra prendi l'altro il gioco del futuro tocchiamo le stelle e con questo credo tornassi indietro invece questo qui era per infrarossare mamma mia quanta bellezza quanto amore ma voglio tornare indietro voglio sapere giusto se puoi sparare gli incantesimi probabilmente sì puoi anche chiamare gli amici eh tu basta che lo apri lo metti all'orecchio è quello il cdi si connette direttamente con casa del tuo amico Gianfranco ma vediamo un po' la nostra console il vostro cdi 470 ha un design sobrio e compatto tutti i tasti inutili sono stati eliminati eh allora che vogliamo fare i tasti inutili sono stati eliminati voglio non c'è niente volete saperne di più sui comandi e sulle connessioni? muovete il cursore sul lettore se volete vedere l'altro lato del vostro lettore cliccate sulla freccia in alto a destra l'altro lato del vostro lettore che devo come poi non ho capito aspetta mi sono già bloccata ingresso telecomandi per cdi dove è l'ingresso per i telecomandi? ah perché voi non sapete che il cdi aveva anche un pratico controller che è questo amici aspetta vi devo far vedere questo a tutto spiano perché qui non abbiamo soltanto la grandiosità di un telecomando che sembra quello di un televisore ma abbiamo anche la spregiudicatezza di un controller che ricorda a quelli delle console videogiocanti è fatto veramente con il polistirolo me lo posso dire pesa niente pesa zero no i tastini non esistono venduto che bello assolutamente maneggevole e poco ingombrante per la casa ok è grosso quanto una mia mano è enorme sto coso ma fra l'altro tutto grigio ma fammi almeno questi neri non lo so allora il design non era male dio mio più o meno un fermacare no ma manco ci puoi fermare le carte perché non pesa niente ragazzi giuro non sa di niente cioè è leggero non lo senti ma guarda qui è enorme ma manco i controller della xbox sono enormi ma torniamo a noi perché noi qui dobbiamo fare andando avanti abbiamo il tasto on office il numero traccia la pausa e il cassetto ma se io volessi vedere il retro ci piace il retro vediamo il retro video connessioni seriali posto per l'inserimento della cartuccia digital mi mettevano delle cose completamente scritte a cazzo perché così la famiglia media che aveva speso i suoi tre stipendi per comprare tutta questa roba non capiva quasi nulla cioè l'ingresso a te raga ma quale console aveva l'ingresso antenna ciao marta grazie mille per essere stata con noi buona palestra quale console aveva l'ingresso antenna però sulla qui c'era l'immagine di sicurezza che diceva di non dare il telecomando in testa a nessuno qui non lo dicono capisci questo fa malì questo è pesante invece questo è molto pesante ah io fra l'altro non mi sono sbrodolata con lo sfondo guarda qua guarda qua ma basta amici io suppongo che comunque ormai voi vogliate passare al sodo perché mi starete dicendo si yucali pronto mamma posso uscire? si yucali bello questo video introduttivo adesso sappiamo tutto quello che c'è da sapere sul nostro cdi's ma se invece volessimo scusami posso parlare? mamma no ma quando finisce? e dove le previsioni del tempo? amici delle previsioni del tempo oggi si prevede cielo nuvoloso al nord e soleggiato a sud i mari sono mossi o poco mossi e i controlli sono incontrollabili grazie mille per aver seguito il meteo yucali arrivederci la doppiatrice l'hai fatta mai? no mai nella vita perché non ho le qualità assolutamente per fare una cosa del genere non ho nemmeno le qualità per fare la streamer però ma non finisce per amor di completezza metto la musica dell'ora esatta di canale 5 ma non no quando finisce? basta spegniti come lo spengo ma scusami sto gioco dicono sia uno dei migliori ho grandi aspettative chissà che fine hanno fatto quelli che lavorano a questa console se sono ancora vivi ma andiamo avanti amici abbiamo assorbito tutto l'assorbibile io qui ecco mi devo già preparare un comodo censurino perché adesso entriamo nel sodo madonna voi non sentite il suono il rantolo di morte che fa la console ogni volta che si accende si spegne comunque adesso andiamo al sodo amici adesso io mi metto degli occhiali virtuali da sessuologa a sessuante e comincerò ad istruirvi su le gioie dell'amore pensavo stessero sgozzando un maya vi giuro fa tipo andiamo il censurino è pronto anzi io me lo faccio più piccolo posso mettere il censurino però un po' più piccolo perché ho capito che sono le gioie del sex però dai anche meno io vorrei censurare soltanto fino a un certo punto non è che qua dobbiamo censurare il tutto tuttabile c'è qualcosa si deve vedere dobbiamo dare spazio all'immaginazione e l'immaginazione quanto spazio avrà ma di fa salve benvenuti si accomodi iniziamo il nostro viaggio all'interno delle gioie dell'assessio prendete appunti amici chi non prende appunti viene bocciato all'esame di sessuologia poi non mi dite che avete problemi con i partner va bene? oh via parlami d'amore o mio cd però pronto chi è? già si comincia male si è pronto? ok joy of sex inizierà tra poco però già c'è un mezzo disegno oh no devo pensare a un full figure number e devo entrare è un codice devo inserire un codice qual è il codice? oddio io che ne so perché devo inserire il codice? aspetta io però me lo devo mettere di qua perché devo vedere quello che voi non potrete vedere fermi ad avercela la par nel senso officino la troverai ah ma era il codice anti bambini me lo devo inventare è il codice anti bambini perché così i bambini non dovevano vedere raga un codice che i bambini non capiranno mai uno due tre e quattro fatto ah vuoi un'introduzione su come utilizzare questo disco? assolutamente sì ciao archi mentre due persone limonano duro quindi vai fammi questa introduzione lei maronna non posso iniziare così signora il signore sta spiegando comunque allora mentre qui posso far vedere così il signore sta spiegando come utilizzare il nostro cdi gioco delle gioie della sensualità accorte mentre in figura vediamo un signore e una signora che si abbracciano bello stupisce è proprio bello stupisce che si abbracciano amorevolmente ma ho capito la prima immagine la tizia con la patana al velo è tutta a posto ma giochi del sesso ma andiamoci cauti ma dai ma basta scusami ma io non ho capito la zina allora la zina non si vede ci sono anche le idee fra l'altro mi piace questo gioco sì ho capito però no cioè la zina non si vede quindi posso anche censurare qui fin qui c'è lui che si fa carezzare comunque c'è lui che si fa carezzare c'è lei che gli fa ok 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 e basta e poi loro si fanno le coccole quindi nel frattempo questo tizio mi sta parlando nelle cervelle però io non sto capendo niente quindi non so come useremo questo cd nel dubbio voi abbozzate vabbè vanno a cavallo sembrano i disegni che fanno nei tribunali in America c'è lei che gli fa sì ok google esatto esatto c'è lei che sta dicendo a lui dove guardare per trovare la felicità oh ma all'improvviso l'amore all'improvviso la tenerezza oh no che fanno ma che è un poeta eh ho capito signore ma lei perché lo guarda così sì eeeh vabbè ma quando io con il gelato guarda lei la vedete dopo queste parole d'amore lei è presa pre amici ma di che stiamo parlando basta fatemi rimettere il bollino che non si sa mai signora i miei film mentali non fanno di dormire like singing or dancing the best sex seldom does come naturally except sometimes in the first flush passion attenzione good sex is something you get from comparing notes la signora sta spiegando ragazza debbiano ronda questa lei è Giovanna sessuologa la signora che vi spiega cosa fare per avere dovete avere del regolare sessuale va bene quindi lei si alza e vi dice adesso vi faccio vedere cosa ho fatto con mio marito l'altra sera not being scared good sex is something you get Non è successo con un trucco sessuale per l'exclusione di tutti gli altri Signora 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 No Signora Ideas, dammi delle ideas Che è? No, il questionario Good health Oddio, aspetta, che devo fare? Si è bloccato la signora Che faccio? Il questionario? Cosa devo fare? Che cosa scelgo? Aiuto paura? Scopriamo su di noi? Ourselves Woman to woman Woman to man Man to man Man to woman Quale vogliamo scegliere, amici? E' altro che Peggy Peggy 99 Facciamo il questionario Woman E facciamo Woman to man Woman to woman Woman to man O man to woman Ma che significa Woman to woman E woman to man E' stessa cosa, no? Cioè se Perché cambiano Scelgo No, no Scelgo io Perché man to woman E woman to man Che significa? Ma in che anni siamo? Siamo nel 95 Credo Le opzioni amusessuali Ma davvero fatto Nel 3000 Questo gioco Raga Ma io vi sto a parlare Nessuno l'ha capita Questa console Era per scrivere Credo che sia Per chi fa chi Non voglio sapere Proviamo con Man to woman Allora Perché io Giustamente Ciao Cataclick Credo che siano Le azioni che una donna Intraprende Verso un uomo Ok Quindi Allora Io voglio capire L'uomo Che cosa Deve fare Per soddisfare Una signora Eccala Subito Capito Briscola Però subito Ma perché mi fai questi jump Scherro così Mannaggia Signo Eccala Signora sta qua Eccala Guarda davanti Bella T'apposto Così debotto Mentre stava facendo Lo spiegone Eccala Eccala Ehi Signore Cosa fa lui Maronna No ragazzi Non posso far vedere niente Si vede solo il piedino Va bene Ci sono due signori Di stessi Che stanno giocando A 3-7 Vabbè E bisogna tanta roba Due signori Che stanno giocando A 3-7 E qua non posso capire Dove si vede Poi c'è lui Che sta scavando Nella cassetta Di sicurezza Della signora Per capire Se c'è qualcosa Di male Mentre la signora Dice Sì sì Proprio lì Stanno giocando troppo Ma fammi aumentare lo zoom Vabbè Lui sta cercando Ancora di capire Cosa succede Mentre gioca Con i Lego Perché lui Adesso sta lì Che guarda La signorina E dice Ah Belle stile Avrà perso Le chiave della macchina Senti il sudere Di yucale Raga Posso sudare Ecco Lui prende Lei gli sta spiegando Come utilizzare i controller I joystick Della PS4 Cir50 La signora di prima Ha percepito La di lei Presenza sessuologica E ne è rimasta Intimica Conscia che la sua esperienza Nel campo Della sessualità Nulla E quindi ha preso il joystick Possiamo concludere La lezione È finita la lezione Maronna Santa Ma era difficile Controller analogico digitale Analogicissimo Maronna Quanto complicato Ma io pensavo fossero Meno sessuanti Ma scusami Ma che siamo scemi Siamo cretini Allora Lei comunque ha preso Il joystick Ha detto a lui Non ti preoccupare Ci penso io Ok E quindi ha fatto lei Andiamo avanti Andiamo avanti Per favore Voglio fare un quiz Facciamo il quiz Explain Ah c'è anche un game Attenzione Mentre questi limonano Ci sono anche gli insights Cosa sono gli insights? Attenzione La signora è ritornata Quando facciamo le reazioni State calmi Domande Dovete parlare col partner Ragazzi Parla Dove vuoi mettere il joystick La conclusione di cosa deve fare un uomo verso una donna è Niente Deve lasciare fare una donna Sì Perché lui ha provato a vedere Le insonature Ha provato a toccare i controller Però lei a un certo punto ha detto Ma poi Ah la sciusta Faccio io Lei comunque adesso vi sta spiegando Che cosa sta succedendo Nello stesso accento di Yucari che parla in inglese Hai visto? Eh ve l'ho detto che io ho studiato Dei migliori Chi è? Ah no questo è un orecchio Vabbè è tutto a posto Mr. T Che torna per nove mesi Passo per un rapido saluto alla più bella community di Twitch Ora che ho fatto pubblicità Può liberare uno dei miei parenti? Ci penserò Mr. T Che torna nel fantastico mondo dei pepsoni per nove mesi Ciao Daniel E' qui che fanno le lezioni di educazione sessuante Sì Cosa facciamo raga? Quale scegliamo? Getting older Che significa? La zozzeria da vecchi? Oddio Che significa? Dove vuoi mettere il joystick? Sul comode Esatto Raga quale scegliamo? Getting older Fa il caso mio Fun and fantasy Ma che re? Aiuto Ciao Philips Facciamo questa? Invecchiare insieme Dai Ok Proviamo? Sesso roleplay Ma io voglio tutto Ehi Non abbiamo molto tempo Il tempo a nostra disposizione Può terminare da un momento all'altro Getting older Oh vabbè Due signori che fanno all'amore In maniera molto educata Vedete? Loro si stanno abbracciando Come due persone abbraccivoli E quindi questa roba sessuale deve anche durare nella vecchiaia E' tempo di bollino Ehi Poi lui Ma perché infila sempre un sacco di lingua lui? Lui infila veramente una quantità di linguaggio incredibile nell'approccio Poi c'è la signora che è seduta Però è scivolante ed è caduta addosso al signore E quindi lo guarda per dire tutto a posto? Ti sei fatto male? E lui dice no no tutto a posto Non mi giro Quindi Sentite E' accidentata Si è caduta per sbaglio E' morrone Più o meno si Lei intanto quindi si gode la bellezza del tutto Scusami If your partner sees you with no clothes on Do you act sexually and hope it leads to do better things Posso scegliere? Flare a little bit and then grab dress No aspetta ma che è un quiz Raga ci stanno a fare il quiz Aiuto No Moderatori Non ero preparata ai quiz Non ho studiato Mannaggia Allora ragazzi Se il vostro partner Vi vede senza vestiti Il momento cover girl Se il vostro partner Vi vede senza vestiti Voi che cosa fate? A Vi comportate in maniera sensual E sperate che poi questo Porti a una sbomballata B Pronto scendi B Flirtate un pochino E poi dopo però vi vestite Che schifo Oppure Freganca Beh Oppure anche Potete recuperare subito dei vestiti Perché avete scuorno Se vi vede senza veli No non c'erano A e B Cancellate Aspetta Cancellate il sondaggio Rifate E A B C O D Ciao Fugo Questo è il prequel di Super Seducer Che questo ha insegnato a Super Seducer Secondo della ruina Chi ha imparato? Ha imparato a Joy of Sex Erano quattro Allora ragazzi Ve le ripeto È molto importante Dobbiamo capire Cosa succede Se il nostro partner Ci vede svestiti A Reagite in maniera Sessuante E sperate che questa cosa Porti a nuova Sessuantità B Flirtate un pochino Però dopo basta Stop Cambia streamer La C No reazioni Oppure la D Vi rivestite Perché avete lo scuorno In voi Potete votare Al sondaggio Aurora Aurora Tra Tra 3 2 1 Prima o poi Arriverà il sondaggio Puoi fare anche solo ABC O Zero O comunque Chi per lui sta facendo I Fatte apposta Intanto Pietro Salve Benvenuti Si accomodi E benvenuti In questa lezione Di sensuologia Sensuante Vi sto facendo Delle domande Importanti Per capire Come in vecchiaia Gestirete Il vostro rapporto Con il vostro Spartner E' partito il sondaggio Lo posso fare io Se no eh Aspetta Nuovo sondaggio Se vi vedono A nudi Ah no no Fatto 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 E' già partito E' partito E' partito Amici E' partito Eccolo qua Se vi vedono A nudi Che cosa fate Ah Reagite in maniera Sensuale Sperate di Strombazzare dopo Flirtate un poco Ma poi Basta Stop Non ve ne frega Niente Oppure Recuperate Dei vestiti Amici Che cosa Fate Quando vi vedono A nudis Come in vecchiaia Cioè domani E noi stiamo Andando Stiamo a fare il test Della vecchiaia Credo che si parli Della vecchiaia Ciao Silvia Grazie mille Per essere stata Con noi Credo che si parli Di vecchiaia Qui Raga Cioè credo Che sia quella La cosa Noi reagite sensualmente Vabbè io vedo Un sacco di sessuanza Qua Flirtate un pochino Però basta Che schifo Non ve ne frega Niente Chi è che ha detto Che non gliene frega Niente Poi lo voglio Il vostro partner Vi vede con La bubba superaria E tutti quanti Vedi Persone di cultura Che qui Fanno I gesti Sessuanti Ma allora Andiamo avanti Se il tuo partner Invece ti dice Pronto No non ti dice pronto Fermi Ma dai Se il tuo partner Invece ti dice Ah ti amo Tu Risplendi un po' Internamente Ma non dici niente Lo ringrazi E gli dai Un pat pat Sulla testa Ma che cazzo Le domande sono Ma joy of sex Ma vi pare Ma se lo ringrazio Ti picchio Lo prendi Come una cosa Scontata Oppure E ti chiedi Ma perché me l'ha detto Ti amo E perché Mi dispiace Scusa Non volevo Questa sarei io Dai L'ultima sono io Quindi Che cosa fate Se il vostro Spartner Vi dice Ah ti amo Perché non mi dà la promo Per l'abbonamento Da sei mesi Sai che non lo so Il Sina Non ne ho idea Ma se il tuo partner Il Sina Ti dice Ti amo Che cosa fai Risplendi internamente Non dici niente Lo ringrazi E gli fai un pat pat Lo prendi come una cosa scontata Amarmi D'altronde Cioè Chi è che non mi amerebbe Oppure Vi chiedete Perché L'avrà detto Madonna Che ansia Però Sono gli stessi Di cover girl Ti amo Ma anche no Grazie Ciao Eterius Buon pomeriggio Cioè Ma è un puzzione Limone duro No No Perché A quanto par Com'è che diceva Don Cruyce Idem Sì Ti dici Ti amo E tu fai Perché Ti dico ti amo E tu dici Lo so Ti dico ti amo E tu dici Grazie Ti dico ti amo E tu Non dici niente Queste Queste sono le nostre risposte Per capire Quanto Vi chiedete Perché Siete dei Siete dei Cretini Ciao Ross Buon pomeriggio Vi chiedete Perché Tutti Dubbiosi Ma ragazzi Non dovete essere dubbiosi Di voi stessi Quanti interessi Condividi Con il tuo partner Un sacco Alcuni Abbastanza O pochi Amici Degli interessi Qui dobbiamo capire Quali interessi Avete in comune Con il vostro partner Non solo quanti Ma anche quali Quali saranno E quanti saranno Ne avete molti Vi piace E a entrambi A giocare a canasta Vi piace E a entrambi Tessere Le tele Vi piace E a entrambi Andare A raccogliere I pompelmi In giro Per strada Un fracco Perché vive Nella mia mente Dai Eh Non ho un partner Il partner Che vorresti Se non ce l'hai Tu Lo vuoi Ce l'hai Nella tua mente Ciao Aurora Buon pomeriggio Grazie mille Per essere stata con noi Amici Voglio capire Dove va a parare Perché questi anni 90 Io voglio capire Negli anni 90 Una volta Che avremo risposto A queste domande Dove andremo Ma allora Nonostante il mio poco tempo Sono a sei mesi di sub Ma sei tornato Hai rinnovato Eterius Ma scusi Eh ma sei mesi Sono sei mesi Eh sei mesi Passano Così di punto in bianco Pochi interessi D'altronde È meglio avere Pochi interessi Ma buoni Con il proprio partner Piuttosto che tanti Ma di brutta qualità Eh Come ti senti Riguarda Alla tua vita Alla tua vita sessuale Allora Come vi sentite Sulla vostra vita sessuale Se ci si parla Non ci sono problemi Non ci sono problemi Non è buona Come vorrei Oppure non sono Per niente soddisfatto Qua io Siete Siete soddisfatti E la vostra è bella Ma non ci vivrei Raga Allora Il punto è questo Che cosa ne pensate Della vostra vita sessuale Parlate E quindi non ci sono problemi Non ci sono problemi Punto e basta Eccolo Non è bella Come vorreste Oppure Non è per niente bella Ma manco Per sbaglio Eterius Intanto Tornate nel fantastico Mondo dei pepsomani Per sei mesi Bentorn house Risponda anche lei Al sondaggio Bah Io direi Dai Io da sessuologa Sessuante Direi che Posso dire Che non ci sono problemi Anche perché Se non si fa Cioè Fin quando possiamo parlare Non comunichiamo Cioè non c'è molta comunicazione C'è comunicazione Però media Così Nella me Non sono io Che devo rispondere A queste domande Siete voi Ah Io sono sessuologa Sessuante Va bene Di Niente esiste Ma come Noesi Ma ragazzi Ma scusami Ma Invece Che cosa ne pensate Della vita Sessuale Dei vostri Amici Beh Penso che abbiano I loro Up and downs Credo che Alcuni di loro Possano avere Dei problemi Non ci penso Oppure Spero Che lo facciano Più di me Quali amici Quali amici No Il Sina Raga Queste sono le risposte Che cosa ne pensate Della vita Sessuale Dei vostri amici Credete che abbiano Dei su e giù Degli up and downs Anche loro Credete che Abbiano qualche problema Non ci pensate Oppure Lo fanno più spesso Di voi Ciao Gigi Ma che cazzo Ne so io Scusi Ma scus Io sono contento Di essere all'oscuro Di quello che fanno I miei Ma anche perché Scusate Cosa fate Negli anni 90 Vi parlavate Della bellezza Della Della sessualtità Come funzionava La cosa Parmi Che torna Nel fantastico mondo Dei pepsomani Per cinque mesi Aspetta Io devo vedere Il risultato Del sondaggio Chi è Amici Io voglio la risposta Chi se ne frega Beh più o meno Ci sta eh La risposta Chi se ne frega È non ci penso Ok Parmi Ben tornare Nel fantastico mondo Dei pepsomani Ma invece La vostra risposta È Credo che ne facciano Più di me Dove sto Non c'è food Addirittura Snake Ma intanto Andiamo avanti Quanto È interessato Il tuo partner Ciao Lucy Quanto è interessato Il tuo partner Al zezzo È interessato Quanto me È interessato Più di me È interessato Meno di me O non ne parliamo We don't talk About brew No 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 Non ne parlate amici È meno interessat È più interessat O è stesso interessato Quanto è interessato Il vostro partner Alla vostra vita Assessuante Mentre questi due Ancora si soffiano Nell'orecchio Voglio dire Comunque In tutto questo Vi stanno facendo vedere Ma che cazzo lo conosce Immagina Immaginare Può essere Un piccolo spunto Per raggiungere L'apice Della bellezza Amici L'apice Della bellezza Il partner Che ho in testa Tanto Immaginatelo Secondo voi Il vostro partner Ideale Quanto deve essere Interessato Nell'attività Sessuante Che tutto sembra Tranne un orecchio Ma noi Non stiamo qui A disquisire Su cosa Sembra Mi raccomando La mano conta Sì la mano conta È vero Ah ma io posso guardare di qua Sono scema Perché guardavo di là Io devo di qua Intanto guardo su Ah Lo stesso Come me Vabbè Vabbè Ok Bravi Ma adesso amici Sopra Scusami Quanto è importante La sensuanza Vedo un orecchio Sì sì Endasil È un orecchio Quanto è importante La sensuanza Nella vostra vita È importante Quanto dovrebbe È molto importante È ragionevolmente Importante O non è molto importante Vorrei capire Chi è che ha detto Non è molto importante Ma voglio vedere Quanti di voi Votano che non è importante Amici L'importanza Della sensuanza Quanto è importante La sensuanza Per voi È importante Quanto dovrebbe essere È molto importante È ragionevolmente Importante O non è importante Non è importante Sì è vero È vero Perché l'amore È quello che si prova All'interno del cuore Non quello che si trasmette Con gesti osceni Basta oscenità Posate il patafrullo Chiudete la bagigia Questa live Questa live la devo cancellare Non sei credibile Ehi Allora Calmi Questa live Comunque verrà cancellata Basta oscenità Basta Zozzerie L'amore vero È quello che si ha dentro Dentro il cuore Vuol dire in testa Allora Quindi Importanza giusta Serrada sti cancelle Esatto Senti che Delle persone Stanno parlando Di sessuanza Cosa fai? Sorridi Con approvazione Ti infili nella conversazione Te ne vai E smetti di ascoltare O cominci a preoccuparti Della tua vita sessuante Amici Allora Accanto a voi La situazione è questa Accanto a voi C'è Pasquale Filiberto Che sta Descrivendo Per filo e per segno La sua ultima notte Focosa Voi Che fate? Cosa pensate? Sorridete Sentendo la notte Focosa Di Pasquale Filiberto Entrate all'interno Della conversazione Ciao Giuscio Buon pomeriggio Spero che le somme Sia andato bene Entrate all'interno Della conversazione Perché volete dare Anche voi Dei dettagli Su La sessuanza Della stessa Andate via Che schifo Sentire Il signore Parlare Del suo ultimo Rapporto sessuante Oppure Cominciate a preoccuparvi Che se Pasquale Filiberto Ha quella vita Sessuante Forse anche voi Dovreste averla Oh mio Dio La mia vita È in pericolo Dovrei fare più Sexo Anche io Perché Pasquale Filiberto Con sto nome De merda Riesce a scoprire Più De me Vi sto mettendo Nella decisione Cominciate a preoccuparvi Vecala Subito Ciao Sipil Buon pomeriggio La domanda è Ma li conosco Come Ragazzi Siete vecchi Al 53% Mi ci dà delle idee Però Per essere meno vecchi Sì Signori Ho paura Signora Di meno Basta Che fa No Signora Ma che fa Lui la baciucchia Però Ok Tutto a posto È bene È bello Basta Signora Si compra Signora Ma questo è scema Ma tu che fa Lui sta dando i bacini Comunque Sta dando i bacini Ragazzi Eeeh Ma tu signora Ma che fa Lei intanto sorride È beata Pensando a lui Che le bacia Le caviglie E descrivo Descrivo Eeeh Basta Il signore continua A baciare le caviglie Della signora Lui bacia un sacco Poi bacia Bacia Quanto bacia Il signore Basta baciare La signora Tiene pure un bel costume Lei è molto contenta Di essere messa in piscina Ed essere abbracciata E baciata Dal suo uomo Perché d'altronde Anche in Maggiore età E basta Cospogliata signora Niente Poi fa Le ha detto Il costume Comunque non mi piace Quindi lo puoi cambiare Per cortesia Dopodiché Le fa un massaggio Lui massaggia Lei Lei è molto contenta Del massaggio E quindi Si baciano Perché c'è dell'amore Quindi mi raccomando Amici Madonna Quanto difficile Ma io scopro di questo cd Un miliardi Facendo vedere Che degli anziani Sciurlano più di me Sto soffocando In ufficio Amici Fun and fantasy Io voglio andare Un po' Di fantasia Beh abbiamo visto Indossando una maschera Indossando una maschera Perché si mette la maschera Perché lui in realtà È Celentano È l'uomo volpe Di Celentano E quindi Fanno un gioco Di ruolo Per Eccala Per fare Le fotografie Perché lui piace Fare le fotografie Quindi le fa le fotografie Però vestito Da pulcinella Ok Però lui è nudo Perché ovviamente I vestiti sono brutti Non ci piacciono Andiamo avanti Poi lui Non so per quale motivo Le pratica La mossa Dello schiaffo Del soldato Mentre Endasil Regala Bingo Pango Mentre Endasil Regala Bingo Pango Pongo Una sabbolo Fa entrare Nel fantastico Mondo Dei pepsomani Allora Amici C'è una sexy Scene In televisione Che cosa fate? Vi annotate Tutte le idee? Noi i disegni Sono bellissimi I vestiti erano In tintoria Raga In una serie Televisiva O in un film Cominciano a fare Sbadabum Bim Bom Voi che cosa fate? Calciate fuori Il vostro blocco note Per Prendere tutte le idee? Lo accettate Come parte Della trama Come in 365 D'altronde? Diventate un po' Imbarazzosi Ma Continuate Comunque A guardare Oppure Cambiate Canale Dai Sono con i miei? Allora prego Che finisca il prima possibile No Perché La bravura Sta nell'essere Con i propri genitori A guardare le scene Sessuanti Cacciare il taccuino E prendere comunque Appunti Cosa fate Cosa fate? Quando c'è in atto Una scena Sessuante Cacciate fuori Il blocco note L'accettate come parte Della trama Vi imbarazzizzate Oppure Guardate via Oppure Cambiate canale Amici Cosa fate Durante le scene Sessuanti Ho sempre Un blocco note Di fianco al divano Non sai mai Quando arriva Una bella idea E d'altronde Guardate che I film Ne hanno Di belle idee Poi dipende Dal film Quando vedo Landazzo Che c'è mia madre Ancora fingo Mi stiano cercando Via chat Io pure Io faccio Io sapete che cosa faccio Quando c'è una scena Sessuante E sono con i miei genitori Comincio a distogliere La loro attenzione Gli dico Qualsiasi cosa Che li possa fare incazzare E quindi si possono Concentrare su di me All'improvviso Va bene Prendi il taccuino Guardi mamma E tu perché Non fai così con papà Vabbè Quaderni Quaderni pieni Lo so raga Prendete tutti quanti I quaderni Bravi Andiamo avanti Se pensi A una nuova idea Per fare All'amore Tu La vuoi provare Subito Con il tuo partner La provi a suggerire Al tuo partner Ne pensi E basta Oppure Te la dimentichi Subito No io La suggerisco Va Faccio io Faccio io i sondaggi Basta 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 Anche perché Sono i 30 Abbiamo un altro quarto D'ora di sessuantità Qui Abbiamo bisogno Di vedere più video Di gente Che ci insegna Come fare All'amore Se il tuo partner Ha avuto Un sogno eroico Su di te Cosa fai Ne parli Gli dici Di non essere sciocco Ma che fai Lo ignori No ne parlo E che cosa facevo Nel sogno eroico Voglio sapere Che cosa facevo Nel sogno eroico Vogliamo sapere Le sue risposte Eh non ti preoccupare Sessuolo Cassessuante Sa Se il tuo partner Vuole giocare Più del normale Voi Joinate Il gioco Joinate Però vi chiedete Che cacchio Dai Cominciate a litigare Oppure Andate avanti Come se fosse normale You got the special edition Come si chiama Questo gioco Si chiama The joy of sex Ma giocare A final fantasy 14 Dai Lo join Che devo fare Multiplay Join Join Ma si Il tuo partner Ti dice Una fantasia Eroica Tu cosa fai? Provi a metterla In pratica? Ti chiedi Perché non te l'abbia detto Prima? Ciao alieno Ascolti In maniera Molto Composta E poi Lo ignori Ti chiedi Che cosa Stava pensando Lo ascolto E poi Lo ignoro Che ne so No Dipende Dipende Da la fantasia erotica Non è che lo posso Per forza Gli dico subito Sì Ma sì Facciamola In ingegnamento Mio padre disse Cos'è quella stato? Perché hanno paura? Lui disse Boh Raga Io Posso fare il DM In questa fantasia Dipende Dalla fantasia erotica Mi chiedo Perché non me l'abbia detta Subito Mentre Fate All'amore Cominci A fare Delle Fantasie Che cosa fai? Le condividi Con il tuo partner Ti diverti Da sola Smetti Di pensarci O smetti Di fare All'amore Che schifo Fammi avere Le fantasie Che è meglio Beh dai Le condivido Con il partner Vuoi Provare Nuove idee Per Il Sessoante E quindi Che cosa fai? Parli Con il tuo partner E poi Le provi Le provi La prossima volta Senza manco Passare dal via Ci fai Delle fantasie Sulle tue fantasie Oppure Te ne dimentichi Che ne so Ma che ansia Ne parlo Con il mio partner Dai Magari arriviamo A una conclusione Un uomo Vuole una donna Per Anzi no Un uomo Vuole che la donna Lo faccia Per la prima volta Con lui Ma dobbiamo Educarli Typical man Non è vero Ma non è vero Basta Con questa storia Il mio Fan In fantasy 81% Vedete Che sono Sessuologa Fan In fantasy How do you feel About the idea Of using fantasy In fantasy Ma questi non sanno What are you thinking Fanno questi come fanno I sessuanti Aspetta Io devo capire Fatemi capire Che io devo capire Come fanno i sessuanti Qua Allora Musica Ah la signorina Si veste Da commissario Da bigliettista Eccola Subito Te so Vesti da contrabbandiera Sì Come la signora De Ferrero Rocher E tu sei Il tizio Il mio E mi assalvi Scusi L'R-I-T-A-R-D Adesso facciamo finta Ambrogio Sì sì Bopo Ambrogio So Tiedi Bello Ferrero Rocher Tieni Prenditi la divisa Da carabiniere Lui il maresciallo Roccas Dei Bentornato In fantastico mondo Dei Pipsomani Ma sì Saltiamo alle conclusioni Che ne dici Se io ti faccio vedere Calabas Signora Però Signora Smetta di fare la sensuante Lei si sta sedendo Mentre lui Sta guardando la tv E poi Rotolano Come dei cani Su un prato fiorito Va bene Lo voglio anche io Il cassetto dei costumi Cacchio Non avete un cassetto dei costumi A casa Ragazzi Ma allora Poi la signora È a casa Da sola E pensa Ah Se soltanto Avessi un signore E il signore Magicamente appare Mentre lei Dorme E quindi Che cosa fa La prende E dice Ma questa si è pesa tutto il letto Io mordo che mi addormento stasera Quindi sapete che cosa faccio La prendo E le leggo Il braccio Così poi Gli posso tagliare E le do un bacino Però comunque Perché se si tagliano le braccia Si tagliano comunque Con amore E con passione Che succede La signora Si veste da catwoman Ma basta Con queste bube Passa al vento Signora Ma che fa Ma come si veste Oh mio dio Catwoman È stata presa da Batman Quindi si Toglie Libera dalla sua maschera E bacia Il suo partner In maniera amorevole Perché L'amore È anche un po' Di Travestismo Ho paura Ma quindi lei Non è consensibile No La signora rideva La signora rideva Ma Sì Raga L'ultima Abbiamo tempo Per l'ultima Il cameo di Catu Abbiamo il tempo Per l'ultima Che cosa Vogliamo fare Cos'è normale Farlo durare Farlo durare Vabbè Dai Scegliete voi Scegliete voi Che cosa Vogliamo fare No Getting older L'abbiamo fatto Facciamo durare Fun and fantasy Pure l'abbiamo fatto Lo facciamo durare Quindi Questo Oppure la tenderness La tenerezza La tenerezza Nell'amore La tenerezza Dai Che dura Che duriamo Allora Questa l'avete capito tutti Loro stanno facendo Il salto della cavallina Soltanto che lei È la cavallina Che exotica Che sta facendo La signora La signora sta premendo Un pulsante Sull'uomo Però non so Che tipo di pulsante sia Perché lo preme Anche la mia Sessologia Non lo sa Questo Però lei sta premendo E anche lui preme Preme La gamba Della signora Grazie Exotic Per la sub Lui preme La gamba Della signora Sta premendo Il golden bud Sì esatto Quindi Vediamo Un po' Sì esatto Sì va Rispondo io A caso No Che carri Nessuno Vabbè Sì è importante È vitale Ok Andiamo avanti Ho sentito solo una parola Non ti preoccupare Perché mi devo Vorri Ma non ci si Vorria Delle Sexual Performance Only when my partner Say something Never Never Joey Che fa partire Life Train Grazie mille Do your sexual feelings For your partner Change Ma perché devono cambiare For the better Almeno Ma perché Pain Beggio Ma povero partner What the things In your sex life Make you anxious Nothing really Make me anxious Whether I please My partner Often we do it I am good at Ed I am good At Ed Vediamo Mettiamo un po' Di caso Do you become A sexually excited Easily Quickly Slowly After stimulation Slowly Slow Prendiamocela con calma Che è una Dai Perché cacchio If your partner Start to stimulate you By hand To you Lie black And prolong Come almost Straight away Wonder why They do it È proprio Bello Stupage Why How well They will do Mi preoccupo No ma perché Mi devo preoccupare Ma perché Sono tutti preoccupati Da sì Va bene Mi prolungo Che devo fare Sono 71% Di durevolezza Ok Ah Fatto Mi prolungo Che devo fare Uno si prolunga Ragazzi Uno prova Va bene No Gangelfo Grazie mille Chi è Che fanno Che fanno Questi due Gangelfo Che regala due Sub A due persone Mentre La signora Sta abbracciando E baciando Il suo partner In maniera Molto amorevole E con un capello E con un capello Veramente Trendy Che bello L'abbraccio Dell'amore Che bello Quando l'amore Sbo Beh Signora Eh vabbè ho capito Signora ma come faccio Che bello Quando l'amore È il litigarello Mentre la signora Maronna mia Che sto vedendo A penis Come ve la dico C'è un joystick Qui Visto Bello in primo piano Disegnato però Fortunatamente Poi lei Quindi Ha visto l'immagine E ha detto Vabbò Facciamo una cosa Proviamo a fare La stessa cosa Mentre Il nostro partner Si Ma erotismo Eh Lo so che è erotismo Eroismo Più che erotismo Poi intanto Di nuovo Stanno facendo Ragazzi stanno facendo Il tutorial Su come si fa Un 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 gesto Dell'ombrello Quindi lei sta Provando a fare Il gesto dell'ombrello Al suo partner Ma Ma purtroppo Ha sbagliato Le movenze Quindi lui ha detto Aspetta Riproviamo C'è di nuovo Un penis No C'è lui Che è molto contento De fa sta sfilata Comunque Lo vedete Che comunque Lui è soddisfatto Ma anche un po' Rimborsato E poi La ragazza Dice Vabbò Basta Però C'è basta Stop E cambia Streamer Quindi Si siede E dice Ma Che facciamo Lui quindi È molto contento E dice Vabbò Ah va bene Comunque uguale Ragazzi Devo censurare Fino a qua Perché il penis Arrivava fino a qua Poi gli fa Il massaggio cardiaco Infatti Vedete Lei ogni tanto Prende Gli mette le mani Addosso E dice Oh mio dio Questi peli Più o meno Ci dovremmo fare Una ceretta E quindi È così Che finisce No non è finita Mannaccia Mi sembra Quando dura Ehi Dura un sacco Veramente Dura un sacco Il signore Lui È un po' Spaventato Comunque È un po' Spaventato Dall'amore Di lei E quindi Che cosa Fanno Vabbè Loro Continuano Ad abbracciarsi E fanno un sacco Abbiamo scelto la durata Siamo pure degli stronzi Posso dirlo che siamo degli stronzi Mamma mia Making it last Ma intanto Gunshalf Che regala Maids E Gina Suprema Regina Suprema Due sub E li fa Entrare Nel fantastico mondo Dei pepsomani Mentre Federico Torna nel fantastico Mondo dei pepsomani Grazie a Kixotic Che gli regala una sub Questo hype train È arrivato Al livello 2 Ma potrebbe Arrivare Al livello 3 Se soltanto Andassimo Sul Tenderness Amici Vedete Due persone Si possono baciare Anche senza Spogliarsi Basta Guarda lì Che bel Disegno Eccala subito Mannaccia la miseria Ma io non è possibile Che devo censura Tutto qua Lui sta guardando Lei E sta dicendo Ah Che bei pettorali Che hai Lui non è a torso Nudo Dai Più o meno C'è il sino più veloce Del west Lei quindi È lì Che dice Ah Ti piace Il mio pettorale Anche a me piace Il tuo Pettorale E quindi Si pettoralano Insieme Poi lei Quindi Scivola Con i jeans Mentre il gamer Torna Per 35 mesi Il fantastico mondo Dei pepsomani Se non mi bannano oggi Mi banneranno mai Pesso Lo posso dire Oh ma che sta roba sozza Non ti ho cresciuto Così Yucali Luc Yucali Luc Yucali Luc Ben tornaus Del fantastico mondo Dei pepsomani Grazie mille Allora Pensi improvvisamente Al Zezzo Che cosa fai? Dici al tuo partner Facciamo All'amore Adesso Oppure Vai dal tuo partner E lo sbaci Appassionatamente Cominci a comportarti In maniera Assessuante Speri che il tuo partner Lo noti Oppure ti dimentichi Dell'idea Madonna che tristezza Però Dai Facciamo che Rasciamo Verso il partner Vado a caso Quanto Bravo è Il tuo partner A toccare Le tue zone Eroiche Le conosce E sa come Toccare le zone Eroiche Dato l'hyp train È stato un successo Amici Grazie mille Abbastanza bene Crede di essere Diciamo Un attimo Sistemare Ricalibrato Ogni volta Magari è una televisione Non sa nemmeno Che cosa sia Una zona eroica Dai Facciamo che Lo ricalibriamo Se il tuo partner No Sammi salire Se il tuo partner Comincia a parlare Di Zezzo Tu Cerchi di trovare Nuove Idea Idea Gli chiedi Se va bene Ti preoccupi Che qualcosa È andato storto Oppure switchi E cominci a giocare Con la switch Io gioco Con lo switch Ovviamente Chi ha Maggior godimento Dall'azione Eroica Cerchiamo Di goderne Entrambi Entrambi Il mio partner Oppure io Dai Entrambi Credo Spero Non lo so Credo Che si debba Grotere Entrambi C'è qualcosa Di speciale Riguardo Il Zezzo Col Due partner Stiamo bene Insieme Io e la mia signorina Gli piace Mi piace E il Zezzo Non è importante Per noi No Ci piace Credo Non lo so We're good together Non lo so Alcune delle tue Attività Sessuanti Ti fanno saltare Di gioia Madonna Io salto di gioia Ogni volta Pensi All'Azzezzo Quante volte Several times All the time Occasionally Ma però All the time Devo essere proprio Infoiata cronica Per questi Infoiata Chi è che ti sceglie I vestiti Scusatemi Io me li scelgo Il mio tenderness È al 71% No Il mio tenderness Auguri per questi Cinque anni Un mese E un giorno Di canalonzo Hai creato La community Più bella Di tutto Twitch Te se vuole bene E ricordate Stasera Di venire su Discord Per vedere la Yubu Cioè volevo dire Il Gelbison Eccoli Fermi La tenderness Eccola lì La tenderness Quanto tenderness Signora Meno tenderness Però Che sballo Grazie mille Per la tenderness La signora è molto tendera Eh E vabbè Ma che Signora Ma che fa Ma lecca come un lama Madonna Ma la signora Stava leccando Veramente come un lama In foiazio Scusami Grazie mille Che sballo Mentre lei Comunque Sbaciucchia Il suo uomo E si gode I piaceri Del massaggio Eroico Si stanno abbracciando Lì sta massaggiando In questo momento E poi tornano a baciarsi Perché mi sembra anche giusto Che comunque Quei due persone Si bacino In maniera Sensuante L'assunto per togliere il cerume Dalle orecchie Ma può essere Continuano a baciarsi Perché baciarsi è bello Fin quando non è litigarello Io penso E' veramente Dovrei togliere anche l'audio Di questa live Mentre loro sorridono Molto educatamente Ciao Mikasa Grazie mille Per essere stata con noi Mentre loro Sorridono molto educatamente E lui Comincia a sbaciucchiare Aia Che sta a fare questo Non sbaciucchi Non Lui sbaciucchia Sbaciucchia un sacco Guarda Sbaciucchia 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 Però Sbaciucchia In maniera Professionale Mentre la signora Ha mal di testa E quindi Sbatte la testa A destra e a sinistra Mare sulla tastiera Fermi Mentre il signore Sbaciucchia Lui sbaciucchia un sacco Guarda lì Sbaciucchia con passione Ed è la passione Che ci lascia In questo momento Questo gioco Sessuale Io credo di non aver mai Censurato tanto In vita mia Voglio giusto Vedere il game Perscrizione Aspetta signora Però lei era Sessuata Eh Abbiamo anche Il game Of sex Perché qui Non abbiamo Mica finito Eccala Subito Signora Grazie Grazie Ma chi è Jerry Scotti Ciao Elcina Ce l'ho fatta Momento sessuante Ma siamo qua Per sette mesi Signorina E verso l'infinito E oltre You calli love You calli love Che fanno sti due La gara di muscoli Gara di muscoli E poi E poi si vestono Ok E Catwoman Si è Catwoman La lotta Poi si vestono Da Ferrero E Catwoman Eccola qua Lo abbiamo Lui prende E vabbè Quanta lingua Quanto bacio Quanta profondità Quanto amore Mamma mia E' il Sina Before we start You have to decide Who's going first And who's going second No Sperate No 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 Raga Non avete visto Quello che ho visto io Fortunatamente Aspetta The beat Toys The clitoris Raga No Aspetta Ma vi spiego tutto Un secondo Ciao Pappero E' il Sina Che torna Per sette mesi Nel fantastico mondo Dei pepsomani Ma Ti voglio bene Il Sina Bentornata Allora Raga Mi hanno fatto vedere Un'immagine In cui La signorina Era distesa Stai calmo D'Artavion La signorina Era distesa E Il signore Utilizzava L'alluce Per Aprire i portoni Non sto scherzando Come gliela spiego Diversamente Questo Potevi portare Speedrun L'alluce Del piede di lui No Non titillare Non titillare Ha letteralmente Aperto il portone Con l'alluce Ma che cos'è E quindi Giustamente Mi ha fatto Delle immagini Mi ha detto Come ti senti Dopo aver visto Queste immagini Ma venavo Magà Che ti devo dire Ma vomito Ma che schifo Ma l'alluce Ma ci apri Qualcos'altro Non saprei Cosa farci Col tuo Auditone Aspetta Fatemi Degli Censuri Non so Che ci devo fare Col Togli Via No Non voglio Voglare Togli Via Togli L'alluce Aspetta Io non devo Censurare Tu Perfetto Perfetto Sì Sì Poi 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 Ah Ok Quindi Per capire L'intesa Tra me Il mio Partner Abbiamo Visto Entrambi L'immagine E Il mio Partner Ed io Dobbiamo Rispondere Alla stessa Domanda Per capire Quanto Siamo In affinità Madonna Artavio Ne hai cagato Il cazzo No Dai Sì Madonna Mia Queste battute Che manco Negli anni Novanta Manco Nel dito Nel cuore Pronto Fatto Stiamo Giocando Col CDI Leggi Il titolo Aspetta Abbiamo Scelto La stessa Ragà Ragà Abbiamo Scelto La stessa Io E Il mio Cervello Aspetta Fermi Io E Il mio Cervello Stiamo Proprio Sulla Stessa Lunghezza D'onda Ma Prossima Domanda Voglio Provare La prossima Domanda Mi faranno Vedere Un'altra Immagine Sporca La signora Sta lavando I panni A letto Perché le lenzuola Erano sporche E quindi Ha deciso Di lavarli In maniera Sensuante Adesso Mentre lei Sorride Soddisfatta Uno dei partner Deve guardare L'altro Deve giocare Siamo in maratona Con che acqua Li lava Con l'acqua Di colonia Mi piacciono Le tende Io direi Che ci piacevano Le tende Nel video Mi piacevano Le tende Grazie No sleigh Il mio canale Non vale 100 euro Grazie La marmotta Che è in casa No 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 Voglio Devi essere giovane Per fare una roba Del genere No mi piacciono Le tende Pure a me Sta lavando Le tende Infatti Raga Erano le tende Sentiamo Abbiamo risposto La stessa cosa Partner Incredibile Incredibile Prossima domanda Io voglio continuare Ma è un feticismo Lavare le tende Sì raga Raga Ve l'ho detto È un feticismo Incredibile Prossima Eeeee Ma do Mi sono dimenticato Il censurino Vabbè Era lei Che era scaduta A terra Era scaduta Non fa bene Raga Era caduta A terra La pista Non ti preoccupare La signorina È caduta Era caduta Soltanto era È caduta Ma è scivolata male In questo punto Prendevi 100 euro C'è ora che è stato Bello No Sai lei che era scesa Era un disegno È un gioco Tutto a posto Vabbè Lui si diverte Mi credo Anche lei Si diverte Eeeh Spero di poterlo Fare più spesso No Non voglio cadere Un sacco di volte Basta cadere Lui pare che si diverta Comunque a recuperare La signorina Da terra Quindi Andiamo avanti Con il partner La stava aiutando A rialzarsi Sì Va bene Quindi andiamo avanti Pronto No Voglio tornare su Fammi tornare su Sidi Ai 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 Ok Vediamo Raga nel caso Ma pensa un po' Nel caso ci vediamo su youtube Ciao Prossima domanda Andiamo alla prossima Ma Voglio vedere Fino a dove riusciamo ad arrivare Voglio vedere Cosa sblocchiamo Attenzione Due persone Si fanno il bagno In maniera Bagnata Mentre si abbracciano Con l'amore Della loro fronte Guardateli Quanto sono belli Second partner You look away First partner Tu ci vada a cascarmi Ma ho detto Non è male No raga In maniera bagnata Sì dai Stanno facendo dietro massaggio Non lo puoi fare Nella nostra vasca Da bagno Spero che l'acqua Non fosse troppo fredda Quello è un grave problema È un grave problema Perché non si fa i bagnati asciutti Di solito E infatti Ho detto Fanno Il C'è In questo gioco C'è molta acqua È vero Beh il second partner Gli facciamo dare Un'altra risposta A sto giro Scommetto che entrambi Sanno notare molto bene Va Ok Dai Dai Sono sicuro Che abbiamo scelto la stessa cosa No Ma seriamente Ho scelto questa Ma la compatibilità È 3 su 4 Ma che cacchio Ma potevamo fare Il perfect score Vabbè dai Bello è un autore Che sembra rispondere Ok No è finito il gioco Mi sono ingioiata Mannaggia Niente Abbiamo fallito Ragà Non funzioniamo Come coppia Non funzioniamo E quindi Ma che succede Per un pe... No Basta Basta Io direi Che con questo Le gioie Dell'erotismo E dell'eroismo Ah no Possiamo tornare così Le gioie Dell'eroismo Possono ritenersi Concluse Amici Tu la domanda a sinistra Dovete lasciarvi ora Poi che gioco era? Si chiama The Joy of Sex Praticamente non era un gioco Ma era Perché il CDA Aveva fatto molte guide interattive Tipo sull'arte Sulla musica Anche sull'eroismo E quindi Questa era una di quelle Già finito Già finì Ma non vi preoccupate La settimana prossima Torniamo col CDA